Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, siamo al sesto turno del torneo dei candidati si sfidano Alireza e Caruana, due dei giocatori favoriti del torneo Alireza prova a sorprendere Caruana in apertura ma quest'ultimo riesce a leggergli la mente come se fosse un libro aperto, incredibile prima di iniziare a vedere questa partita ricordo a tutti di iscrivervi al canale mettete mi piace a questo video, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, Alireza gioca con i pezzi bianchi e inizia con uno d4 Caruana risponde con cavallo f6, vi faccio notare che ormai a questi livelli cavallo f6 possiamo dire è praticamente l'unica risposta a d4, infatti d5 è caduta completamente in disuso Alireza gioca c4, Caruana risponde con e6 e Alireza gioca g3, attenzione Alireza rientra nella catalana, sistema sicuramente giocabile anche a questi livelli il punto è che Alireza praticamente non l'ha mai giocato quindi Caruana si sorprende un po' ma rimane comunque ben composto e risponde con pedone d5 a questo punto Alireza gioca alfiere g2, segue alfiere 7 da parte di Caruana rientrando nella catalana chiusa arriva a cavallo f3 preparando arrocco da parte di Alireza e Caruana decide di arroccare fin qui nelle prime 5 mosse i due stanno giocando a una velocità veramente impressionante possiamo dire per una partita a tempo lungo infatti pensate che hanno entrambi utilizzato meno di 50 secondi per eseguire le prime 5 mosse quindi non ci riflettono neanche però a questo punto Alireza gioca a donna d3 una linea rara ma ben conosciuta anche ad alti livelli poiché è giocata da Boris Gelfand qui però Caruana affermerà che era già fuori teoria dopo questa mossa ma le mosse gli sono comunque venute in maniera naturale incredibile arriva c5 da parte di Caruana Alireza decide di mettere il re al sicuro e a questo punto Caruana decide di rilasciare un po' la tensione al centro e cattura in d4 segue cavallo per d4 da parte di Alireza e Caruana risponde prontamente con cavallo c6 ora la preparazione di Alireza possiamo dire che non sta avendo praticamente nessun effetto su Caruana perché Caruana sta rispondendo prontamente giocando delle ottime mosse qui segue pedone per d5 cavallo per d4 da parte di Caruana quindi una mossa intermedia prima di catturare il pedone decide di cambiare i cavalli donna per cavallo e a questo punto cavallo per d5 ora qui Alireza ne approfitta subito per giocare torre d1 piazza la torre su una colonna aperta e come vedete mette pressione sul cavallo in d5 di fatto a questo punto Caruana però gioca alfiere f6 quindi guadagna un tempo sulla donna e possiamo dire che in questa posizione la posizione del nero sembra ottima Caruana si deve ancora sviluppare l'alfiere campo chiaro ma anche il nero deve sviluppare alfiere e cavallo quindi diciamo che fino a qui Caruana non ha avuto nessun problema a questo punto della partita però Alireza cerca nuovamente di sorprendere Caruana giocando una mossa molto strana ovvero donna g4 ma comunque Caruana rimane calmo e gioca la mossa migliore alfiere d7 incredibile la risposta di Caruana alla preparazione di Alireza ragazzi ovviamente alfiere d7 per cercare di mettere l'alfiere in gioco giocando alfiere c6 a questo punto siamo alla dodicesima mossa la posizione è completamente pari e Alireza inizia a pensarci ci pensa per ben 40 minuti e gioca cavallo d2 ora io dico se tu giochi tutte le mosse molto velocemente poi ad un certo punto inizia a pensarci ci pensi tanto 40 minuti un tempo veramente assurdo stai lanciando un forte segnale al tuo avversario ovvero che hai finito le carte non sei più in preparazione tutto questo secondo me gioca a svantaggio di Alireza quindi Caruana qui era ancora più tranquillo ragazzi Caruana risponde con un'ottima mossa tra l'altro gli gioca donna e7 collega le torri toglie la donna dalla colonna d quindi dall'attacco a raggi x della torre Alireza qui ci pensa altri 10 minuti e gioca a cavallo f3 in una posizione comunque pari arriva a torre c8 come vedete Caruana gioca delle mosse molto naturali piazza la torre su colonna aperta pedone 4 da parte di Alireza cercando di attaccare il cavallo ma anche qui Caruana veramente mostruoso gioca a pedone 5 guadagna un tempo sulla donna con l'alfiere e solo poi successivamente può spostare il cavallo chiaramente quindi arriva donna h5 cavallo b4 questo cavallo in b4 può ritornare in c6 che è una sua casa naturale e può anche andare magari in c2 per giocare cavallo d4 qui Alireza ci pensa altri 20 minuti e decide di giocare al fiere g5 rimanendo con meno di 18 minuti sull'orologio una cosa veramente pazzesca siamo alla mossa 17 vi ricordo che non hanno incremento fino alla mossa 40 Caruana a più di un'ora Alireza a meno di 18 minuti veramente incredibile ragazzi Alireza voleva sorprendere Caruana Caruana gli fa la lettura della mente non lo so se è trasformato in un mago e succede tutto questo appunto qui Caruana decide di catturare l'alfiere arriva a cavallo per g5 minacciando scaccumato in h7 ma Caruana decide di giocare semplicemente h6 e di cacciare via il cavallo quindi a questo punto Alireza è costretto a ritornare in f3 attacca quindi e5 arriva cavallo c6 per difendere il pedone in e5 e ora arriva una mossa piuttosto strana da parte di Alireza in evidente stato confusionale era sotto pressione con 11 minuti di tempo decide di sacrificare la qualità un sacrificio molto dubbio arriva donna per d7 chiaramente alfiere h3 quindi Alireza cerca di riprendere indietro la qualità però giustamente Caruana qui gioca f5 e Alireza qui addirittura perde la testa e cattura di pedone commette un altro errore anche se avesse catturato di Alfiere sarebbe comunque seguita donna e8 guadagnando un tempo sulla donna e su donna per e8 ovviamente torre per donna quindi non perdendo la qualità ma rimanendo con la qualità in più partita diciamo vinta per il nero a gioco corretto quindi per Caruana invece Alireza decide di catturare addirittura di pedone commettendo un errore Caruana sposta ovviamente la torre dalle case chiare poiché ora Alireza sta minacciando f6 e Alireza decide di giocare cavallo h4 cavallo h4 per venire in g6 a questo punto però Caruana gioca un'altra ottima mossa ovvero pedone e4 e con pedone e4 sta dando la casa e5 al cavallo ora in questo momento quindi arriva torre d1 l'Aliresa cerca di portare l'ultimo pezzo in gioco ovvero la torre ma Caruana ne approfitta subito cercando di cambiare le donne chiaramente è in vantaggio materiale più semplifica la posizione e più probabilità ha di vincere cerca di cambiare le donne Alireza non le può cambiare e gioca donna e2 a questo punto siamo alla 25esima mossa Alireza ha meno di 10 minuti tra l'altro qui Caruana guadagna anche un pedone catturando in a2 segue cavallo g6 attaccando la torre la torre si sposta in f7 arriva cavallo f4 un'altra mossa un po' dubbia ma il punto è qui è che Alireza non riesce a coordinare bene i suoi pezzi per un attacco anche se questo cavallo dovesse venire ad esempio in e6 non minaccerebbe praticamente niente questa torre fa un ottimo lavoro difensivo quest'altra torre comunque è un ottimo pezzo il cavallo in c6 un ottimo pezzo diciamo che Caruana qui non sta rischiando assolutamente niente qui arriva donna b3 Alireza gioca alfiere g4 per giocare alfiere h5 per dare l'infilata e catturare una torre ma ovviamente Caruana gioca pedone e3 con pedone e3 sta minacciando di catturare in f2 dando scacco quindi Alireza deve per forza spostare il re gioca re g2 ma a questo punto il vantaggio comunque di Caruana è troppo grande è a gioco corretto la partita vinta e la posizione è anche piuttosto semplice da giocare possiamo dire qui arriva torre d8 cercando di semplificare la posizione e cercando comunque di entrare in d2 con la torre quindi Alireza deve cambiare arriva a cavallo per d8 e qui Alireza cattura il pedone in e3 a questo punto Caruana gioca torre c7 minacciando torre c2 per guadagnare la donna ma lo fa comunque con una semplicità disarmante Alireza è rimasto con 7 minuti di tempo sull'orologio arriva re h3 cavallo f7 per giocare cavallo g5 alfiere f3 e arriva torre c2 appunto torre c2 che tra l'altro mette anche pressione sul pedone in h2 questo pedone in b2 cade quindi donna d1 cavallo g5 scacco re si sposta in g4 e arriva cavallo per f3 chiaramente Caruana sceglie delle linee molto semplici va a cambiare i pezzi semplifica la posizione e sa che la sua posizione è vinta a questo punto Alireza decide di dare scacco arriva comunque re h7 non ci sono più scacchi il re cattura in f3 arriva donna per b2 come vedete ora Alireza sta praticamente in una situazione disperata Caruana vuole catturare in h2 o comunque anche dare scacco da dietro al re ha comunque dei temi di scacco matto Alireza qui gioca donna e8 per cercare un eventuale perpetuo con donna g6 arriva comunque donna f6 quindi si para dallo scacco attacca il pedone in f5 Alireza decide di difendere il pedone però regala il pedone in h2 Caruana ovviamente cattura il pedone e qui arriva donna d7 a questo punto Caruana inizia a dare scacco il re si rifugia e Caruana offre il cambio di donne qui i due hanno raggiunto la mossa 41 quindi hanno un'ulteriore ora di tempo ma chiaramente Alireza si ritrova in posizione veramente disperata non ha più niente da fare in questa posizione gioca comunque donna a 4 e poi decide di abbandonare wow una partita veramente a senso unico una partita pazzesca ragazzi Alireza prova a sorprendere Caruana in apertura ma questo addirittura sembra che riesce veramente a leggergli la mente Alireza inizia a pensare 30-40 minuti a mossa Caruana rimane composto utilizzando anche poco tempo per muovere e va a vincere una partita in maniera abbastanza facile ora la lotta rimane aperta tra Caruana e Nepo questi due giocatori sono in gran forma stanno dimostrando di giocare in maniera eccezionale vedremo cosa succederà chiaramente non voglio sminuire Alireza sì è un grande campione ma sta veramente trovando molte difficoltà in questo torneo infatti se non mi sbaglio ora è praticamente nell'ultima posizione insomma tra gli ultimi quindi uno che era il favorito si trova in ultima posizione grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate mi piace ciao e alla prossima grazie a tutti